Sangue di Gesù contro altro sangue. Esiste una chiara distinzione tra il sacerdozio dell'Antico Testamento e il sacerdozio di Gesù Cristo. I sacerdoti dell'Antico Testamento erano tenuti a sacrificare periodicamente gli animali per espiare i peccati umani, ma Gesù Cristo espiò i peccati umani una volta per tutte. Le scritture spiegano, non è possibile, infatti, che il sangue di tori e capre porti via i peccati, ebrei 10 e 4. È anche scritto, ogni sacerdote sta in piedi a servire ogni giorno e offre ripetutamente gli stessi sacrifici, che non possono mai togliere i peccati, ebrei 10 e 11. Tuttavia, il fatto che Gesù Cristo fosse Dio nella carne umana ha fornito una soluzione duratura, come si legge, ma quest'uomo, dopo aver offerto un solo sacrificio per i peccati per sempre, si è seduto alla destra di Dio, da quel momento in poi ha aspettato che i suoi nemici fossero fatti i suoi piedi. Perché con un'offerta ha perfezionato per sempre coloro che vengono santificati, ebrei 10. 12 a 14. Lezione. Gesù Cristo ha salvato l'umanità dai sacrifici di routine che hanno intrappolato l'umanità nel raggiungimento di una, limitata remissione dei peccati. Il Figlio di Dio ha sacrificato la propria vita per rimettere definitivamente i peccati dell'umanità e, riconciliarli con Dio. In passato, i sacerdoti hanno sacrificato capre e pecore per espiare i peccati umani, ma questi sforzi non hanno dato una soluzione permanente, perché il sangue degli animali non poteva rimuovere i peccati. Il sangue di Gesù, pieno di vita, è stato utilizzato per espiare definitivamente i peccati e portare la redenzione eterna. Quindi, le persone che si sono confidate in Gesù Cristo e lo hanno accettato come loro Salvatore non avrebbero più avuto bisogno di sacrificare animali, Cristo ha sacrificato se stesso per loro. Chi confessa Gesù Cristo come suo Signore e Salvatore riceverà il perdono dei peccati e il suo nome sarà scritto nel Libro della Vita. Preghiera, lode a Dio. Cristo ha sacrificato la sua vita per i miei peccati. Il Figlio di Dio ha tolto la necessità di sacrificare capre e pecore per la remissione dei miei peccati. Piché sono credente in Gesù Cristo, i miei peccati sono stati lavati via, e la corona della giustizia mi aspetta in cielo. Lode a Dio, il mio nome è scritto nel Libro della Vita, sono un figlio di Dio, e il cielo è la mia casa. Grazie Gesù Cristo per aver salvato la mia anima. Il mio desiderio del cuore è di servirti per tutti i giorni della mia vita. E lo farò finché avrò la grazia, che Dio mi aiuti. Amen.